umberto ecco tutto forché cultura uguale noioso è riuscito a coniugare il sapere con il divertente la cultura appunto con l'inatteso ma come possono stare insieme se non insieme quasi mike buongiorno tommaso d'aquino james bond e carlo carretto ma è una cosa che veniva discussa 50 anni fa non è vero basta prendere le cose sul serio dico per citare uno dei meno illustri dei miei colleghi il leonardo si occupava tanto del ritratto della vergine quanto del delle crepe sul muro delle volute di una conchiglia o di una macchina pseudo elicottero prendeva tutto sul serio senza per questo dire che la beata vergine uguale l'elicottero grande studioso del medioevo medioevo nel nostro immaginario immaginiamo subito dei cavalieri delle grandi armature delle grandi spade va troppo a lancio in resta è un'epoca molto più seria molto più intanto era fatta di contadini non solo di cavalieri 90 per cento di contadini e 10 era fatta di studiosi di monaci poi di quale medioevo parliamo perché va di bene che dura mille anni quindi un'epoca che dura mille anni non è un'epoca siamo noi che ci siamo sbagliati a classificarla e quindi c'è un'epoca di quelle che si pensano dei castelli dopo tra l'altro castelli non esistevano erano delle baracche di legno e l'epoca di dante alighiero dei primi banchieri quindi è un'epoca tremendamente complessa certo che al cinema è più facile fare vedere i templari che non i banchieri comunque diciamo che quando lei negli anni 50 ha avuto il primo rapporto con la rai sembrava armato di daga in quanto doveva modificare dei programmi che sembravano paludati ma non è non era affatto vero io io non ho fatto un cavolo alla rai ho guardato solo i programmi degli altri perché è vero che eravamo entrati con un corso in cui eravamo pensati come rinnovatori ma la rai era ancora in mano ai vecchi fascisti alla vecchia oligarchia pre guerra e quindi tra i vecchi massoni fascisti e i nuovi vecchi cattolici era interessata non so a mettere le calze nere alle ballerine non a rinnovare i programmi in più funzionari non potevano fare programmi né potevano firmarli noi riscrivevamo i programmi di raccomandati che pagati scrivevano i testi per la rai ma non erano capaci a farlo noi ci divertivamo a rifarli abbiamo fatto di tutto ci siamo molto divertiti anche qualche cosa di nuovo si scoperte di musei col defunto franco russoli topo gigio ma insomma erano piccoli passi quello che era bello della rai dell'epoca era che non aveva paura a dare alle nove di sera pirandello al posto del grande del grande fratello e la gente lo guardava forse perché non c'era nient'altro però lo guardava e immagino si divertiva ma questo è un consiglio anche per la televisione di oggi oppure deve essere veramente modificato in base a come si modifica il paese certamente la televisione deve seguire i gusti del paese e la concorrenza però se una televisione monocanale è riuscita ad affascinare e a conquistare un'intera nazione dando alle nove di sera pirandello o la riduzione televisiva dei promessi sposi vuol dire che può anche indirizzare i gusti i gusti di un paese se non vive soltanto per per l'udienza quindi a parte a parte fatto che quando non davano la pirandello magari davano la commedia di rosso di san secondo ok era pur sempre buon teatro recitato dai grandi oratori che c'erano allora sul che recitava memo benassi recitava quindi era un modo di proporre al pubblico del buon teatro anche quando era teatro di boulevard anche quando era l'operetta potevano essere resumazioni di 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 operette celebri e fatte bene e risultavano divertenti probabilmente molto di più di certi programmi trash di oggi però giustamente le diceva allora non erano che ci fossero tanti mezzi 80 offerta come la gente prendeva quel che era una responsabilità enorme da parte di chi offriva mentre oggi sembra che essendoci con una scelta così grande come dire la gente possa autonomamente scegliere lei invece sono al contrario che c'è sottolinea invece il rischio esatto e della trattura di ritorno da concorrenza quando c'è la concorrenza raramente si si punta al prodotto più alto si punta al prodotto più buon prezzo e quindi più basso è un mito del liberismo che la concorrenza migliori prodotti può anche può anche peggiorarli se poi la concorrenza è basata su quell'entità fantasmatica che è l'udienza che 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 non dice che non dice allora ci si può uccidere scannare e per l'udienza proprio in questi giorni vediamo che ci sono quattro ne parlano i giornali di quattro cinque programmi uguali che sono tutti nella stessa nella stessa serata e ciascuno tenterà di imitare l'altro come i bambini che si coppiano a scuola per cui il tema bisogna che copiano da quello bravo però se copiano da quello bravo ecco dato che appunto la televisione nacque o comunque diciamo il 54 è l'anno dell'esplosione ci sono stati in altre parti del mondo i primi mesi del 54 esatto la stavo finendo di laurearmi e la vedevo sul nel bar di corso vittorio a torino cioè billa billa queste non sapevo che poi a settembre sarei finito lì ecco lei già nei primissimi anni come ha fatto sempre per tantissimi temi del mondo della comunicazione è un deciso anticipatore e lei già nel 1961 raccontava come fenomeno quello di mike buongiorno il famoso testo fenomenologia di ma io ero seduto in quell'ufficio in cura i dirigenti della rai di milano il quasi ignoto mai buongiorno ha spiegato il programma che volevo fare io ho seduto come come ultima ruota del carro ero ero soprattutto l'alter eco del maestro ballo che era un grande uomo e quindi ero anch'io nella sala anche se se non c'è quindi ho visto nascere questa cosa e l'ho seguita oggi potrebbe scrivere la fenomenologia di qualcun'altro esiste nella nostra delle foto è uno studioso passati 50 anni devo occuparsi solo di poeti elisabetiani perché sa come trattarli le cose contemporanee se lui è stato un bravo professore se ne occupano i suoi studenti che sono più freschi e attenti a quello che stanno vedendo